Salve a tutti ragazzi, bentornati da Life Show, anzi benvenuti a questo primo video in l'anno Siamo nel deserto dell'Arizona e siamo già con una pausa Tatticamente ho fatto una cazzata a mettermi una miglietta nera perché ci sono 34 gradi Io a schiuma ho visto uno che veramente tirava fuori i sacchetti di besciamela Dunque ragazzi, volevo fare questo video per informarvi qual sarà la missione di questo viaggio Allora ragazzi, io sono il soggetto del video La missione di questo viaggio sarà appunto quella proprio di mangiare lo schifo, tutto lo schifo che c'è negli Stati Uniti Io ve l'ho detto che avrei proprio provato qualsiasi pietanza E ragazzi, siccome gli Stati Uniti sono la patica dei fast food Come potete vedere dietro di me c'è Taco Bell, Burger King, un po' di zozzeria varia Insomma io direi di subito di iniziare dal Burger King e di andare a provare qualche specialità insomma proprio così Quindi ragazzi, soprattutto tenete d'occhio alla pagina Facebook per essere sempre aggiornati su quello che succederà in questo viaggio fantastico Ragazzi, spero fantastico E su tutte le zozzerie che mangiano Quindi date uno sguardo per l'ultima volta al Mike Shoshaseco che conoscete E quindi ci vediamo la prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao